Buongiorno a tutti e ben ritrovati, speciale Focus Periferie e il primo anzi di una serie di speciali, ben undici giusto Walter, che sono gli undici comuni, gli ex comuni annessi nel 1923 alla città di Milano. Quest'oggi e anche le campagne ci danno il benvenuto, siamo in quel di Baggio. Buongiorno anche al nostro ospite Paolo Gugliano del 18. 18 giornale storico di Baggio, anzi di tutta la zona del municipio 7. Sì, esiste dal 1980 fondamentalmente, anche se personalmente sono entrato a far parte della redazione 5 anni dopo. Non 5 anni fa, 5 anni dopo, quindi insomma un veterano della redazione, con noi anche ovviamente Walter Cherubini, consulta periferia Milano, siamo in un punto storico fondamentale per raccontare la storia di Baggio, giusto? Soprattutto per legarlo al centenario degli antichi comuni milanesi, una realtà, diciamo così, dal punto di vista amministrativo, sparita 100 anni fa, il 14 dicembre del 1923. Qui alle nostre spalle abbiamo la sede del municipio di Baggio di allora, che ospita attualmente, ma da tempo, da più di cent'anni, anche la Croce Verde Baggio. E questo qui è uno degli aspetti abbastanza interessanti, perché noi stiamo interpretando l'aspetto del centenario degli antichi comuni milanesi nella sostanza come se fosse una questione di muri. Invece, il fatto che qui ci sia la Croce Verde Baggio, vuol dire che noi abbiamo una storia vissuta da oltre 100 anni e che ci fa il percorso culturale di una realtà cittadina milanese, ma che si incardina proprio in un luogo specifico. Quindi, quali sono, per esempio, i valori che hanno trasportato da 100 anni a questa parte? A parte chi ha bisogno di soccorso e quindi questo è il trasporto che continua. Ma c'è il tema proprio dell'identità, perché 100 anni fa, abolendo il comune di Baggio, e quindi chi abitava a Baggio aveva l'amministrazione vicina che si occupava direttamente delle cose di questa piazza, di questa via. Aveva un sindaco, no? Stomani, appunto. Aveva. Il sindaco a cui è stata dedicata la piazza in cui eravamo. Aveva esattamente il sindaco che come sua priorità aveva Baggio. Poi, appunto, nel 1923 vengono abolite le amministrazioni e quindi tutto passa a Palazzo Marino, cioè a Milano, come dicono normalmente i vecchi abitanti di Baggio, ma anche degli altri antichi comuni aggregati, i Lambrate, piuttosto che Musocco, piuttosto che Niguarda, piuttosto che Chiaravalle Milanese. Ecco, questa qui è un pochettino la condizione alla quale noi dobbiamo prestare attenzione se non vogliamo che la città sia priva di identità e quindi diventi una città, diciamo, attrattiva, perché Milano sicuramente è una Milano attrattiva, ma che abbia poco fondamento sul tema della Milano abitativa. Valter, vorrei tornare un attimo sulla parte più storica invece di questa vicenda. 1923, 14 dicembre, giusto? 14 dicembre. 14 dicembre. Finisce l'epoca, l'era del comune di Baggio. Com'è stato però questo passaggio? Paolo, tu hai seguito un po' le vicissitudini, non dell'epoca ovviamente, ma magari storicamente le hai ripercorse. Com'è stato questo passaggio? Il passaggio è stato, direi, piuttosto, come dire, controverso, se si può dire questa parola, nel senso che si è arrivati a questa, diciamo, aggregazione forzata, si può dire, perché fu voluta in primo luogo da Benito Mussolini. Perché c'era un po' questa idea, questo disegno della Grande Milano, no, giusto? Sì, in realtà il progetto di questa aggregazione c'era già precedentemente, cioè nel senso che anche i sindaci precedenti di Milano, mi riferisco a Caldara, avevano, come dire, preparato un'aggregazione di questo tipo, con una differenza sostanziale, che quell'aggregazione che avrebbero voluto i socialisti avrebbe comunque mantenuto un'autonomia dei vari comuni. Invece, come sappiamo dalle vicissime storiche, quando prevasse il fascismo nel 1922, quando si ripropose questa aggregazione sotto il sindaco Mangiagalli, in realtà poi Mussolini cambiò le carte in tavola. Decise, cioè, di imporre un'aggregazione, cioè di diffondere questi comuni alla città, togliendo ogni autonomia, diciamo così. Quindi, quello che in realtà non si dice è che il modello amministrativo che tuttora vige a Milano è frutto di questa aggregazione. Infatti, mi hai dato giusto l'assist, perché, Walter, qui adesso ritorno a te, quindi, sarebbe potuto andare in maniera diversa, quindi abbiamo scoperto. Se passava un altro tipo di idea politica, di idea amministrativa, di come gestire la città nel suo totalità, saremmo magari qui a parlare di, invece, una Baggio molto più autonoma, che è quello che un po' ci auspichiamo a volte, giusto? Più che una sottolineatura, più che una Baggio più autonoma, più curata. Più curata. Perché? Siamo a livello amministrativo. Parliamo a livello amministrativo. Anzi, perché la Baggio è molto bella, curata, ha le sue belle ceramiche e tutto, quindi da quel punto di vista è ben curata. A livello amministrativo, ahimè, un po' meno. Allora, ma proprio per un problema di struttura organizzativa. Cioè, noi abbiamo un'organizzazione amministrativa che è rimasta sostanzialmente quella come modalità aperativa che c'era nella Milano del 1872, quando il comune di Milano era grande 9 km2. 9 km2. Poi, nel 1873, con l'aggregazione del comune di Corpi Santi, che è la ciambella che sta intorno a Milano e che arrivava circa all'attuale cerchia della 90-91, il comune diventa di 76 km2. Quindi, lo stesso sindaco, allora era Bellinzaghi, nel 1872, che continua a essere sindaco nel 1873, deve governare lui con i suoi amministratori, prima 9 km2, poi 76. Se andiamo poi al 1923 con il citato sindaco Mangiagalli, il sindaco Mangiagalli deve governare da 76 km2 a 181, che sostanzialmente è l'attuale dimensione della città, con una piccola differenza che allora, nel 1923, vennero aggregati circa 130.000 persone, tenuto conto di abitanti che abitavano in questo periodo. Oggi, nello stesso luogo, ci sono 850.000 persone. Quindi è cambiata radicalmente, ma il criterio amministrativo centralistico è rimasto sempre lo stesso. E' chiaro che allora questo viene meno nella cura del territorio ed è un tema, appunto, il centenario è un tema di oggi, perché ha tutta una serie di riflessi sull'organizzazione amministrativa che tutti quanti diciamo che non è adeguata, ma che si fa difficoltà a contenere, anche perché è un problema di cultura organizzativa. C'è chi pensa, siamo in un negozio chiuso qui in questo momento, c'è chi pensa che gestire un negozio sia uguale a come gestire una catena di supermercati e invece le organizzazioni per esempio aziendali ci insegnano che non è così. Allora noi dobbiamo prendere spunto e questo centralismo amministrativo, burocratico, fa male alla città, ma questo lo dicono tutti o quasi, anche se ci sono tutta una serie di resistente che è il momento un attimino da sviscerare, perché qui non si tratta di combattere l'uno contro l'altro, ma riconoscere quella che è la dinamica della città, altrimenti noi continueremo a dire che ci sono tante realtà che si occupano sul territorio, ma poi non sappiamo nemmeno quante siano, cosa facciano, eccetera, e non ce ne curiamo nemmeno, perché noi abbiamo per esempio tanti dopo scuola, circa 200 a Milano, però non c'è nemmeno un elenco. Ci siamo spostati, da Piazza Storale abbiamo camminato lungo Forza Armata e siamo arrivati al 410 che per voi del 18 è un luogo importante, adesso poi appena passa la macchina attraversiamo e andiamo anche a vedere meglio. No, in realtà qui c'era la sede del 18 fino a 4-5 anni fa, adesso non è più qua. Angelo seguici, però c'è una targa che lo ricorda, giusto? Allora, una targa che ha delle importanti anche, allora prima di tutto, guarda Angelo, facciamo vedere la targa, Baggio 34 Cairoli, cos'è quello? Il 34 era il tram che collegava Baggio a Milano, diciamo, il primo mezzo pubblico, che di questo non mi sono mai occupato io, anche se a memoria dovrebbe essere stato nel 1912 o qualcosa del genere, che appunto venne istituito questa linea che collegava appunto, collegava Baggio con la città di Milano, ecco, allora Baggio era ancora chiaramente comune autonoma, no? Comune autonoma, c'era un tram appunto che andava a Milano, no? Valtre, come dicevamo prima, si va a Milano all'epoca, bisogna andare a Milano, il 34 appunto famoso, il tram, se non c'è neanche più il tram che arriva a Baggio, che poi diventò il 18, infatti perché molti pensano che il 18 sia il 18 per il tram, ma non era solo per quello, ma anche perché era la zona 18 questa. Sì, sì, inizialmente quando negli anni 70 si decise di fare appunto, di dare spazio a quello che era il decentramento, quello era il programma originale, ovviamente, la città venne divisa in 20 municipalità, 20 consigli di zona, che poi sotto la giunta Albertini questi 20 consigli di zona sono stati ridotti, mi pare, a 9, 9, 9, sono 9, sono 9, 9, 9. Allora abbiamo nel 68-69 l'introduzione del decentramento amministrativo nella città di Milano, questo perché? Perché chi allora l'aveva pensato e l'aveva fondato il decentramento amministrativo pensava ad una città policentrica e una città policentrica per essere tale deve avere una amministrazione policentrica, altrimenti sono dei funghi sparsi dove qualcuno costruisce da qualche parte, si dice che è riqualificata quella parte della città e quello lì è diventato un nuovo centro, ma non è così perché diventa magari in quel 500 metri quadri diventa un posto sistemato, bello eccetera eccetera, ma non ha lo sguardo sui 181 km quadrati e in particolare su quell'80% di questi 181 km quadrati che sono la periferia che va dai confini comunali fino alla cerchia della 90-91 ed è costituita da antichi borghi millenari, Baggio possiamo dire che è un antico borgo anche se era piuttosto grosso già allora, piuttosto che altri che noi sentiamo nominare normalmente, ma ci sono anche nuovi quartieri con tutta per esempio la problematicità dei quartieri di edilizia popolare che sono pubblici e sono quelli più critici, vuol dire che c'è una modalità organizzativa che non è adeguata a gestire, ma noi abbiamo anche tantissime aree che sono agricole, infatti Milano è il secondo comune agricolo d'Italia e poi ci sono anche i parchi, ecco noi pensiamo sulle aree agricole che coprono il 16% della città, allora è chiaro che gestire antichi borghi, nuovi quartieri, parchi piuttosto che aree agricole non è proprio la stessa cosa, ma questa è quell'area periferica, proprio periferica perché? Perché non ha più l'amministrazione, questo è il punto e finale c'è stato il tentativo appunto nel 68-69 con i consigli di zona di dare un'amministrazione locale, però il regolamento del 77 è rimasto a lettera morta fino al 97, ne hanno fatto un altro nel 97 appunto che è rimasto a lettera morta fino al 2016 dove sono stati introdotti dei municipi, siamo nel 2023 però diciamo che non è che ci sia questo grande cambiamento, anzi tutti dicono che è rimasto un po' come era prima, ecco questa è una mancanza che bisogna invece colmare. Walter non si può venire a Baggio e non venire però alla chiesa di Baggio, se mai anzi non si può venire a Baggio e non si può andare a Baggio a su una lorgan, com'è sta storia? Il 18 dedicò un quaderno anche che abbiamo ancora in sede proprio su questa vicenda, ci sono varie versioni, quella più famosa è quella che dice che l'organo era dipinto sul muro, in realtà l'organo c'è, adesso c'è l'organo, no? Sì, tra l'altro dovrebbe essere anche restaurato perché per quel che so io l'ultimo restauro risale penso a un'ottantina o novantina d'anni fa, tra l'altro c'è un libro importante che sempre il 18 ha scritto, un libro di Federico Sciardelli che è l'abbattimento della Basilica di Baggio perché l'originale è rimasto solo il campanile, quindi la basilica fu appunto abbattuta e ricostruita mi pare alla fine del 1872. E c'è questo modo di dire che si usava una volta che va Baggio a su una lorgan, una delle versioni diceva che in realtà qua non ci fosse lorgano ma fosse solo dipinto, diciamo che era un modo come un altro per mandare a quel paese, più o meno, più o meno, no? Sì che è divulgato anche oltre frontiera perché proprio questa terminologia è utilizzata anche nel canton Ticino per esempio, per dire proprio vai a quel paese, una delle varianti era appunto che invece dal conservatorio, qui appunto c'era l'organo e quindi era un po' come una punizione, vai a Baggio su una lorgan, perché arrivare dal conservatorio di Milano arrivare a Baggio era una bella trottata e quindi per gli studenti di allora era una semipunizione anche se poi qui potevano suonare. Diciamo che questo campanile è sempre rimasto un po', mi ricordo ai tempi delle scuole elementari dove appunto veniva raccontato che fosse uno dei luoghi, ma non so se poi sia proprio così, rimasti in piedi dopo che passò il Barbarossa, il Barbarossa che tirò giù tutto Milano e questo qui è un ritaglio, ma ci sono sicuramente... Barbarossa non è quello che ha salvato anche la Gisela di Luzert, non era lui sempre? No, non lo so. Perché ne sono passati così tanti qua a Milano che ognuno butta giù tutto ma salva qualcosa per fortuna, quindi per fortuna la cosa è arrivata a noi. Quindi esiste proprio anche un problema di conoscenza storica, perché la conoscenza storica è anche la sedimentazione delle popolazioni, sicuramente anche Baggio che non era proprio centralissima rispetto all'allora Milano, però riconoscere e capire qual è stata la sedimentazione della popolazione che poi ha costruito e ha dato vita a quello che noi vediamo, il positivo sicuramente, se Milano è particolarmente attrattiva vuol dire che ha delle grosse positività, nello stesso tempo anche quegli aspetti di mancanza di cura che hanno portato anche a alcune situazioni di degrado, qui possiamo andare esattamente a 200 metri di distanza all'Istituto Marchiondi, che opera dell'architettura brutalista di Vittoriano Viganò che è stato esposto al MoMA di New York, noi andiamo a vederlo, è vandalizzato ed è un disastro. Ecco, quando parliamo di cura, allora parliamo di cura sapendo anche quello che c'era lì, perché per esempio con l'Istituto Marchiondi Spagliardi è stato innestato un progetto architettonico ma che si sposava su una logica educativa di ragazzi che avevano una serie di problemi e che è continuata fino a metà degli anni 70. Poco fa abbiamo visto la sede storica del 18, adesso invece andiamo a vedere la sede nuova, ci spostiamo di qualche metro, sempre qui ovviamente a Baggio. E per chiudere siamo venuti nella nuova sede del 18, grazie per averci aperto le porte di questa bellissima sede, 18 che abbiamo detto appunto un giornale storico di questa zona dal 1980 che continua però a contare anche in vista soprattutto del centenario degli antichi comuni. Sì, sì, giusto. Anzi per quanto riguarda diciamo appunto il centenario, il 18 ha pubblicato questo libro, questo quaderno, l'abbiamo praticamente presentato in Cascina Monastero, la sede appunto del municipio 7 a fine di gennaio, dove in pratica vengono, viene ricostruite le vicende, vengono ricostruite le vicende che portarono appunto l'aggregazione di Baggio e degli altri dieci comuni alla città, praticamente. Il libro abbraccia tre anni, tre anni cruciali nella storia non solo di Baggio ma della Nazio, visto che parte dal 1920 con l'occupazione delle fabbriche, vicenda estremamente drammatica, per concludersi appunto alla fine di dicembre del 23 con l'aggregazione di Baggio e degli altri dieci comuni a Milano. Quindi in questi tre anni vengono ricostruite le vicende anche politiche, perché fondamentalmente l'aggregazione è stata fondamentalmente un'azione amministrativa politica, visto che fu voluta e imposta da Benito Mussolini. E c'è tutto qua, di quei tre anni lì c'è tutto, si parte dalle elezioni del sindaco di Baggio, parlava qui delle elezioni del sindaco di Stovani, quindi la vita del comune di Baggio, fino a, e questo lo conosciamo Valter, ce l'hai fatto vedere più di una volta, lo faccio vedere in camera, mi avvicino un attimo, vedete questo manifesto che vedete qui, che è il manifesto con cui il comune di Milano decreta... E allora il sindaco Baggio Galli comunicò l'aggregazione degli undici antichi comuni. E diceva così, diceva, il sindaco di Milano, cioè Milano c'è quattro volte solo nella prima due righe per far capire chi comandava, no? Comune di Milano, il sindaco di Milano comunica che in forza del regio decreto 2 settembre bla 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 bla, ed il consiglio comunale di Milano, resa esecutiva dell'autorità, i comuni di Affori, Baggio, Chiaravalle milanese, Crescenzago, Gorla Precotto, Greco milanese, Lambrate, Musocconi, Guarda, Prenno e Vigentino sono definitivamente aggregati a Milano. Da anche poi delle indicazioni. E questa qui è la parte forse centrale che ci riguarda oggi. Che dice, le amministrazioni dei cessati undici comuni suddetti sono conseguentemente assunte dal comune di Milano, il quale si riserva di provvedere sullecitamente per il coordinamento dei servizi già esercitati dai comuni soppressi con quelli esistenti nel comune di Milano e di attuare in seguito delle ulteriori provvidenze che si risconteranno necessarie. Nel portare quanto sopra notizia delle nuove popolazioni della più grande Milano, il sindaco anche a nome della giunta rivolge loro un augurale saluto e confida nella valida loro collaborazione alle attività cittadini, il sindaco Mangiagalli. Ecco, era proprio in quel secondo capoverso, proprio delle amministrazioni e le loro competenze portate a Palazzo Marino dove stiamo a discutere oggi. Per questo che c'è il problema centro-periferia. Periferia non è uguale a degrado perché noi andiamo in tantissimi posti dove ci sono dei bellissimi monumenti, tipo la Certosa di Milano in Garignano, piuttosto che da altre parti. Noi facciamo ogni mese le giornate per i Ferry Art Meal che sono più di 20 appuntamenti grazie alla disponibilità di 46 organizzazioni locali che settimanalmente siamo arrivati ormai a 416 sopralluoghi accompagnati. Perché sopralluoghi e non visite guidate? Perché il sopralluogo normalmente è in un posto che vai a vedere perché ci vuoi fare qualcosa. Ecco qui per conoscere e per prendersene cura. Perché se non conosci sarà difficile che tu te ne possa prendere cura. Da questo punto di vista c'è anche un collegamento con i giornali di zona. I giornali di zona o stampa locale meglio, tipico questo è il 18, si chiama il 18 perché allora c'era il consiglio di zona 18 come anche tanti altri. Allora questo giornale voleva essere un interlocutore e uno stimolatore del consiglio di zona che doveva essere esattamente l'amministrazione del territorio. Solo che questa amministrazione del territorio non c'è mai stata. Quindi la segnalazione che facciamo noi e l'invito che facciamo a una riflessione ha il buon numero di testate locali che sono rimaste operative e quella di vedere la loro interlocuzione non è attualmente quella con i consigli di zona. Perché il consiglio di zona rispetto a un bilancio del comune di Milano che fa il gestionale di 3 mila milioni di euro ne hanno uno a disposizione. Capite che è esattamente zero. Allora è per quello che bisogna fare un'attenta e anche iniziativa proprio per dare questa amministrazione agli antichi comuni che non vuol dire scollegarsi da Milano ma proprio quello di un'amministrazione comunale policentrica cosa che non è. Per capire meglio cosa significa 11 puntate di Focus Beriferia si parte oggi qui da Baggio ma si andrà in tutti gli 11 comuni che poco fa vi ho nominato. Io ringrazio davvero Paolo per l'ospitalità del 18. Grazie a voi. Walter noi ci vediamo nel prossimo comune 11 comuni seguiteci perché davvero è importante capire come si è arrivati a questa situazione come si è arrivati a questa grande Milano che tanto ci piace e tanto amiamo ma come forse potrebbe essere ancora meglio. Walter grazie mille. Grazie a voi e seguiteci. Alla prossima.